Buongiorno Cicciobello, che storia ci racconti oggi? Sono andato a fare la spesa a Lando, vado nelle casse veloci, avevo tipo una decina di robe, però avevo i sacchi della verdura di Okan enormi e hanno l'auri piano per metterle di Okan 40x40 e non posso mettere una sopra l'altra, perché se subito 30 cm in altezza la macchinetta mi dice che devo rimettere meglio la roba, dio schifoso. Faccio tutto, una tragedia di Okan perché avevo sacchi enormi, prendo un sacchettino, metto dentro le tre puttanate che ho, salta fuori quello dietro e mi fa, guarda che sacchetto devi pagarlo, e io dico un cazzo, metto dentro la roba e la metto dentro il cavello, mi fa, guarda che sacchetto devi pagarlo, e gli faccio, ma cosa ha avuto te? Ho chiamato la signorina raddetta per dirgli che non avevo pagato una borsetta, allora io arrivare alla signorina, prendo di Okan e scontrino e gli faccio, qua cosa c'è scritto? Che hai pagato una borsetta e quante borsette ho? Una, l'ho pagata quindi sì, e allora cosa volete dalla mia vita? Lei mi fa, il signore mi ha chiamato dicendo che lei non aveva pagato una borsetta, e lei ha detto, guarda, digli a Robin Hood qua, puttana, quella madonna, Dio porco, che non sono un ladro, Dio can, per la borsetta da 10 centesimi, Dio schifoso, che si è rotta appena lo prendo in mano.